6 14.43 Luca Bortoli di Nus secondo Tor e il 48esimo concorrente del Tor de Gia anche arrivato al rifugio Dondena come stai Luca? bene, molto bene pensavo peggio invece andando abbastanza bene cioè in linea con quello che erano le aspettative ecco, con che aspettative ti sei presentato al via di questo Tor? le aspettative sono quelle di arrivare però di migliorare il tempo che avevo fatto nel 2021 che tempo era? così poi andiamo a controllare ti mettiamo un po' di pressione ecco appunto, non pubblicatelo se no poi dico non ce l'ha fatta intorno ai 120 ore ci avevo messo ecco, visto che ci hai messo intorno ai 120 ore avresti già il pedigree per poter fare il Tor de Glacier un pensierino, visto che di qua passano anche quelli del Tor de Glacier ad alzare l'Asticella in futuro l'hai fatto? oppure non lo farai mai? oppure chi può dirlo? no grazie benissimo, penso che sia più chiaro di così non ce n'è ultima cosa che ti chiedo qual è la parte più bella? quella che ti piace di più di questo grandissimo viaggio sulle alte vie valdostane? gli acciai del Defei sopra il Defei quindi già fatta, archiviata sì, si è archiviata adesso basta arrivare a Cormaia faccio negli acciai quindi anche a Rosa non fa schifo buon divertimento e buon viaggio grazie, grazie ciao, ciao, ciao